Pescara ha lo sguardo lungo di chi si proietta con fiducia negli spazi lontani. Pescara non si chiude nei magazzini e negli uffici ma si apre mettendo in contatto idee, persone e iniziative. Perché Pescara getta ponti, colmando con un guizzo di ingegno e di fantasia di stanze prima vincolanti. Pescara ha davanti a sé solo un confine mobile di acque che la spingono avanti. Oggi, più che mai, ferve questo sentimento in una città che si è rinnovata in tutte le strutture e che seduce chi vi approda. I pescaresi animano il dinamismo della città con la loro vivacità intellettuale e professionale, rinnovando sempre un entusiasmo e una voglia di vivere che imprese, innovazione, servizio, ricerca, formazione, cultura, volontariato, associazionismo. Una comunità di uomini e donne che chiede nuove opportunità per esprimere idee e talenti. Comune lo strumento per dare queste risposte, accompagnando Pescara nel suo cammino veloce verso il domani. Questa sfida mi avvince perché so qual è la cosa giusta, continuare a crescere. Sono Marco Alessandrini, con te per te, sindaco di Pescara.